Con oggi concludiamo la campagna elettorale, è stata una campagna elettorale dura, è stata una campagna elettorale bella, siamo cresciuti tutti, ma permettetemi una cosa, vorrei ringraziare i miei consiglieri, i miei amici, i candidati, con loro abbiamo condiviso quest'anno, tutto questo percorso l'abbiamo condiviso insieme, abbiamo messo insieme le nostre idee, le nostre energie, il tutto per un unico obiettivo, tornare a essere cittadini tra i cittadini, lo facciamo per le nostre famiglie, lo facciamo per i nostri figli, perché domani dobbiamo pensare a loro, non dobbiamo pensare a noi stessi, alle nostre esigenze, alle nostre opportunità, dobbiamo pensare solo alle nostre famiglie, come è stato sempre fatto a Monturano, come è stato sempre fatto in passato, perché questi sono i valori che ci hanno sempre contraddistinto, grazie. Grazie a tutti.